Allora, continuiamo, ecco qui, come vedete, le lettiere sono strapiene, vedete quanti piccoli che ci sono, quindi questo per dimostrare a certi guru che i lombrichi non vanno via, che è impossibile secondo loro raggiungere certe densità di lombrichi, come avete potuto vedere qui i primi 7-8 cm erano tutti lombrichi, quindi quelle densità, come dice Edward, si possono raggiungere tranquillamente.